Il bonus mobili 2023 consiste nella detrazione IRPEF prevista per una spesa massima di 8.000 euro che scende a 5.000 per il 2024. Nella somma sono comprese anche le spese di trasporto e montaggio. I beneficiari del bonus mobili grandi elettrodomestici sono coloro che hanno effettuato acquisti entro il 31 dicembre 2024 e che hanno avviato gli interventi di ristrutturazione edilizia dal 1 gennaio dell'anno precedente all'acquisto. Sono agevolati gli acquisti online, i pagamenti devono essere sempre tracciabili. Per avere accesso al bonus è necessario indicare le spese da detrare nella dichiarazione dei redditi.